Qui vi presentiamo le 5 migliori guaine contenitive. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Shumian Intimo Donna Modellante Guaina Contenitiva. Lo stile dei pantaloni a vita alta garantisce una compressione aziendale, evita la formazione di dossi. Solleva e solleva i glutei per un aspetto più rotondo e più sovodo. La chiusura a gancio in vita ti consente di cambiare le dimensioni di cui hai bisogno e adornato con pizzo in vita per aggiungere un tocco sexy. 4 stecche in acciaio a spirale intorno al sottosopra modellante offrono assistenza alla schiena, aiutano a ridurre il dolore alla schiena e migliorano la posizione. Proteggono anche dai pantaloni dal rotolamento. Passando al numero 4. Playtex KZGB Eder.O Eta Ida. Fornisce un armonioso mix di efficacia, comfort ed eleganza. La trama è rinforzata sul davanti con cuciture ed è ottenuto da un materiale morbido, traspirante e elasticizzato, scelto per modellare la tua forma. Le curve armoniose, sottolineate dall'applicazione triangolare per una vestibilità eccezionale, incontrano il gusto di tutti coloro che sono alla ricerca della modernità. Ha a che fare con il laccio da scarpe traleciato e l'ampia vita flessibile e aderente senza steve. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Calzità Liguaina contenitiva e modellante. È una sagomatura a 120 den e spinge anche verso l'alto pantaloncini dimagranti. Le sue parti non hanno aspetti di miglioramento evidenti ad occhio nudo ma all'interno sono strutturate per garantire un effetto dimagrante. Migliora i contorni nel modo giusto, sollevando i glutei, appiattindo la pancia ostinata e includendo anche la sezione centrale, permettendoti di acquisire un'ottima silhouette. Realizzato in materiale flessibile e traspirante, è ignobile sotto l'abbigliamento. Almost at the top of our list at number 2. Mise Moridone Body Shopper Guaina contenitiva. Questa fascia modellante per tutto il corpo agisce sull'addome e forma la vita e la parte superiore delle gambe rendendole più sottili. Il corsetto è regolabile a vari livelli di sagomatura con 15 treganci, taglio a forma di un sul davanti e anche fasce flessibili. Grazie allo stile Mish, flessibile e contenente allo stesso tempo, è garantita un'elevata traspirabilità. Lo strato esterno sul ventre è elegantemente finito in pinzo. E infine il numero 1 della nostra lista. Le bel guaina modellante contenitiva già da snellente. Questa è la tradizionale fascia di controllo ad alta dispensa, ideale per sostenere in modo efficiente il bacino e ridurre l'area dell'addome. È realizzato con fibre elastiche di alta qualità, che hanno la capacità di mettere in una buona forza di compressione. Comodo da indossare, è immune ed elegante e ti fa apparire istantaneamente più sottile dove è richiesto. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.